Educare alla felicità. Qualcuno pensava che la felicità fosse come un prodotto che si va a comprare da qualche parte e ahimè questo pensiero non è del tutto sbagliato perché forse già in passato l'ho ripetuto. Oggi la cultura di oggi che per me non è cultura almeno certe idee, certe presentazioni, la incultura di oggi presenta la felicità come una merce, come qualcosa da acquistare. Vuoi essere felice? Bene. Impara a guadagnare, impara a possedere. Vuoi essere felice? Bene. Cura il tuo corpo e curare il corpo è sempre una bella cosa ma farlo diventare idolo è un'altra cosa. Vuoi essere felice? Devi essere il più bello. Devi essere il più intelligente. Devi essere quello che più degli altri è originale. No. La felicità non è qualcosa che si si compra. La felicità è qualcosa che si conquista. La felicità è qualcosa che appunto, lo ripeto, non si acquista ma si conquista. E conquistare vuol dire fare un cammino. Conquistare vuol dire compiere dei passi e potremmo dire educarsi. Educare. Educare alla felicità. Educarsi alla felicità. È la tematica che stiamo un po' così scoprendo, trattando in queste nostre puntate. Come si educa alla felicità? Perché dobbiamo educare alla felicità? Perché la felicità vuol dire la pienezza dell'uomo. Se io educo e mi educo ad essere felice, mi educo ad una vita piena, alla pienezza, alla vita vera, alla vita nella sua completezza. Non una vita piena. Potrebbe passare anche questo termine, ma è più bello dire alla pienezza della vita. E oggi vorrei ricorrere, secondo me, ad un uomo che è felice. Perché è un uomo intelligente, è un uomo libero, è perché è un uomo che alla fine dei conti sa conquistarsi, si è conquistata la felicità. Roberto Benigni. Non tutti ricorderanno, ma io lo ricordo con gioia e anche con molta lucidità, quando lui per la RAI, credo, nel mese di dicembre 2014, fece i cosiddetti dieci comandamenti. E disse qualcosa sulla felicità che secondo me è di una profondità unica. Ascoltiamo. La felicità, dice Benigni, cercatela tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta, ora si mette in cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo. Perché l'hanno data a tutti noi, la felicità. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l'hanno data in regalo e in dote. Ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso, che lo nascondono. E molti di noi lo fanno così bene che non si ricordano dove l'hanno messo. Ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro. Vedrete che esce fuori. C'è la felicità. E anche se lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Non bisogna mai aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Parole che meritano un approfondimento. Ci vediamo domani per il Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!